La città di Sciacca perde una grande opportunità per i giovani, quella offerta dal bando pubblicato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, in compartecipazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la selezione di oltre mille volontari nella sola regione siciliana, da impiegare in progetti di servizio civile della durata di 12 mesi. Bando al quale potevano partecipare comuni, cooperative, associazioni, enti pubblici e privati, nella graduatoria dei soggetti accreditati non figura il comune di Sciacca, che dunque non ha partecipato al bando. A rivelarlo è il consigliere comunale Silvio Caracappa. Proprio in queste ore ha emanato un ulteriore bando che dà la possibilità a circa 1153 giovani nella regione Sicilia di poter presentare istanze e di poter avere per un anno una buona opportunità di natura lavorativa e quindi una retribuzione mensile di 433,80 euro. Alla domanda che mi viene fatta da parte di questi giovani, se potevano presentare distanza, io mi sono precipitato per vedere un attimo se il comune di Sciacca aveva partecipato, aveva presentato domanda a questo bando. Dalle notizie che mi sono state riferite e peraltro al bando già c'è un allegato, allegato 1, dove ci sono elencati gli enti, le cooperative, gli comuni, i tanti comuni della nostra regione che hanno presentato regolarmente istanze e la documentazione relativa, ho visto che il comune di Sciacca è escluso. Quindi purtroppo devo dire ad oggi che i giovani della nostra città non avranno l'opportunità di poter presentare istanze presso il nostro ente competente. Bando sfruttato invece da diversi comuni, compreso Montevago, che ha presentato un progetto che consentirà l'impiego per un anno di 12 volontari. Io dico che se a Montevago lavoreranno 12 unità, 12 giovani, a Sciacca ne potevano lavorare benissimo, almeno 50, dando un segnale secondo me importante in un periodo per certi versi molto difficile. Per Silvio Caracappa tutto ciò testimonia il disinteresse e la disattenzione dell'amministrazione Valenti nei confronti del mondo giovanile. Del resto, aggiunge, cosa ci si deve aspettare da un'amministrazione che ha perfino ritenuto di stralciare dal piano triennale delle opere pubbliche il progetto della Greenway, conclude l'ex vicesindaco dell'amministrazione di Paola. Una disattenzione secondo me molto grave da parte della Giunta Valenti, una disattenzione secondo me gravissima verso un mondo giovanile a cui bisognerebbe dare un'attenzione diversa. Peraltro, non voglio essere critico, ma non è una novità che la Giunta Valenti, a tanti bandi che danno l'opportunità di operare al di là delle casse comunali, al di là dei bilanci comunali, a tanti bandi non ha partecipato ad oggi e non è una novità che c'è, secondo me, una disattenzione grave nei confronti di alcuni settori strategici della città. Per esempio, voglio fare un cenno e mi permetta di dirlo, non capisco come dal piano triennale delle opere pubbliche sia stato stracciato il progetto della Greenway, un progetto su cui abbiamo lavorato tantissimo. Io, unitamente al sindaco di Paola, eravamo stati a Roma presso la Fair Service, avevamo raggiunto un'intesa dove la Fair Service sino al 2020 ci dava l'opportunità di avere quest'area gratuita e quindi presentare i progetti singoli per avere dei fondi non indifferenti a favore di questo progetto, ancora una volta su questa cosa. Disattenzione e addirittura la Giunta Valenti cosa fa? Straccia il progetto, quindi eliminando del tutto la Greenway. Grazie a tutti.